direi che facciamo no scusa sa per tagliarlo avrete arrivato la coda eh ma che tocca fa allora la tagliata e dove la mettiamo sul culo no fammo una foto vai vai beh me lascia cucire fammo una fotarella taglia sta cazzo di questa coda fammo la foto però sorridi vai mannaggia il croce strada ma ti chiamo via no le minacce no o no senti un po com'è stronzo 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 ma perché sento io dai buono anche il girato chi l'ha fatta se tagliatelle qua eh chi l'ha fatta mamma mia guardate che lavoro le uova di campagna vede com'è in gialle me le ha portate ieri con uova di campagna mamma mia il zucchetto c'è poi ho un'altra domanda per voi ma queste storie arrivo da un minuto vi piacciono o no fatemi sapere perché a me non dispiace perché riesco a fare molto di più con un'unica storia però c'è a chi piace che non piace voglio un vostro parere scrivetemelo incredibile sta scendendo la temperatura sta nevicando su due versanti guardate come neve guardate come sta buttando giù incredibile riaprono tutti i mesi di cima marona di campiglio curmaier sciamoni la twill attenzione anche cortina d'ampezzo cortina da adesso cortina d'ampezzo sta nevicando guardate come nevica sta nevicando guardate tutto quanto mi butta addosso se no di quattro moccoli e ecco sei stupido no mi butta dietro addosso non capito eccole 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 qua belli regolari porose raccolgono tutto il sugo sugorum risugato con doppio risugamento arsughe ecco come arsuga le tagliatelle nonna maria con il sugo di nonna maria che spettacolo e con chi? eh com'è ripetela nella vita ci vuole fortuna io la fortuna l'ho avuta con te è vero o no? l'ho portata in italia ma ora che è lui? che è Rocca? è un cane? è in piedi della vignola ma perché? è perché è in piedi della vignola ma perché? è perché sì ma che t'ha fatto porostolo? ma che t'ha fatto? eh tu pensa che quando scappo verso le cinque cinque in quattro che scappo? eh come apro il canciglio ma 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 mi va abbagliato perché? ma che ne so non c'era con me quindi tu c'è noti sta cosa che il cane ce l'ha con te abbaia non vuoi il moscato? dice guardate guarda il gattino micio dormimo? oh dormimo? eh dormimo qua guarda quanto sei bello sta con prissi del tappeto nero oh c'ha sonno il gattino ma come hanno fatto abbandonate eh come?